Ora la gara e a chi lascia il governo. Tra i nuovi scontenti della gestione del dossier Brexit da parte di Boris Johnson c'è anche il suo fratello Joe che si è dimesso da ministro dell'università spiegando di sentirsi stretto tra il dovere di lealtà familiare e quello della difesa dell'interesse pubblico. Prima di lui aveva gettato la spugna l'ex ministro delle finanze Hammond alla testa di un manipolo di una ventina di deputati conservatori, impazienti di votare contro il governo conservatore. Intanto qualcuno annuncia polemicamente che non si candiderà più con i toris come ha fatto il nipote di Winston Churchill il cui appassionato discorso d'addio ha commosso i membri della Camera. Signor Presidente non correrò alle prossime elezioni dati i miei 37 anni di vita politica trascorsi in questa Camera della cui appartenenza sono oltremodo fiero e onorato. Soltanto mi dispiace chiudere in queste condizioni. La tensione e le divisioni in campo conservatore non frenano i sostenitori di Boris Johnson e della sua visione di una Brexit, costi quel che costi. Quelli che ora si ribellano sapevano da due giorni che ci sarebbe stato un voto di fiducia. Alcuni sono miei vecchi amici, credo che Boris potrebbe parlargli anche in questa fase avanzata per discutere anche delle loro scelte in vista delle future elezioni. Lo scontro interno ai toris comincia a somigliare ad una guerra senza quartiere con il leader e Premier impegnato a punire i suoi oppositori politici, rendendo così visibile uno scollamento sempre più ampio tra i cittadini e la politica. Grazie a tutti.